La lingua era fondamentale per il discorso della dicotomia, nel senso che Paolo divide il mondo in parole pulite e parole sporche, quindi parole sincere, parole invece false, in realtà dette da persone false, perché poi è una dicotomia che dipende dai personaggi, dalle persone che lo circondano, più che dalle parole stesse, cioè non c'è una decisione a priori su che cosa è pulito e che cosa è sporco. Invece l'acqua è ciò che permette di pulire il linguaggio, la parola e anche la sensazione e poi il corpo, perché la parola sporca addirittura il protagonista a un certo punto, gli è sporca proprio il corpo, ed è poi in realtà ciò che io avevo all'inizio, quando non avevo ancora nulla, avevo solo questa immagine di un uomo che si lavava in maniera ossessiva e poi ho capito che avevo bisogno di qualcosa che lo sporcassi e ho pensato alla parola. Ah, quindi è tutto partito dall'acqua in realtà? È partito tutto dalla scena della doccia, che poi in realtà viene abbastanza alla fine, però nella mia testa era la prima quella che aveva.